Penso che oggi abbiamo giocato da squadra, al mio parere abbiamo anche dominato per tanto tempo, per il primo tempo e nel secondo. Alla fine abbiamo rischiato tanto ma è dovuto anche ai due infortuni, ci ha fatto cambiare il modulo, non era questo quello che avevamo provato contro il Palermo. Quindi siamo andati in difficoltà nell'ultimo. Però quando abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister in settimana abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come il Palermo. Quindi noi dobbiamo continuare a giocare così, a ascoltare testa bassa e pedalare come abbiamo sempre detto. Ciao Raul, sono Antonio Martone, buonasera. Ascolta, uscite fuori da questa trasferta, da questa gara in casa della capolista con più rafforzati nel morale e diciamo adesso ci credete in più nei vostri mezzi, nelle vostre forze dopo una fase di crisi e di mancanza di identità che avete avvertito? Sì, guarda, è proprio quello che io stavo pensando lì fuori. È normale che con i risultati che abbiamo avuto prima di questa partita possiamo perdere un po' di fiducia. Noi siamo stati bravi a crederci ancora, abbiamo dimostrato che davanti alla capolista, a casa loro, siamo una squadra veramente che può fare tanto in questo campionato. Quindi dobbiamo crederci nella maniera giusta, non credere troppo che siamo più forti degli altri ma avere la consapevolezza che siamo forti e mettere in difficoltà tutti. Ti faccio i complimenti per il lavoro sporco che hai fatto, come diceva anche Sonia Lantella, dimostrando pur essendo giovane già una grande maturità perché chiunque al tuo posto penserebbe solamente a segnare, a stare lì davanti. Invece ti abbiamo visto spesso nell'area di rigore, a retrare, a far respirare la squadra, a prendere falli ed altro. Ma questo non fa parte della mia domanda. Io ti voglio fare due domande specifiche. Al nono minuto, tu hai avuto un'occasionissima, avevi un ottimo pallone su dopo aver recuperato la sfera, era conteglio in pressing sui difensori del Palermo, sei entrato in aria e hai tentato questo dribbling su Berlusci, se non vado errato. Ecco, hai sbagliato tu o hai subito fallo? Perché ho visto che tu il tunnel l'hai fatto all'avversario, ci vuoi raccontare questa azione. E poi ho visto che di sovente hai avuto dei falli da parte dei difensori del Palermo, che l'arbitro non ne ha fischiato, non ne ha chiamato. Era una specie di partita personale che lui stava giocando contro di te. Ecco, mi dici qualcosa? Ma guarda, durante tutte queste partite penso che ho subito un po' di falli che non si sono fischiati, quindi alla fine non ci faccio caso. Poi nell'azione che dici, sì, nell'azione quella penso che ho sbagliato perché lì dovevo spostare, essere veloce, spostare e tirare invece di andare a puntare. Ho deciso di andare a puntare, lo avevo saltato, poi magari non è stato tanto il contrasto, non gli ha fatto pensare che era fallo. Quindi è un'azione dubbiosa e poteva fischiarlo o no, alla fine ha deciso che non era abbastanza... Non ti ha chiamato altri falli, ancora più clamorosi, figurati se ti chiamava quello. Ultima domanda, poi ti lasciamo andare, sei stanco, sicuramente ti manca il gol. Ma ha detto questo, questa intesa con Cuda, voi siete la strana cupia, cioè non siete nati per giocare insieme, però vedo che vi state adattando e anche se spesso non vi cercate. No, ma guarda, questo dipende anche come giochiamo e come gioca l'altra squadra, quindi oggi io e lui dovevamo stare un po' lontani, visto che loro avevano un mediano che poteva coprire il passaggio in mezzo. Quindi abbiamo giocato lontani, ma solo per questo motivo. Di normale noi anche quando ci alleniamo abbiamo veramente tanta intesa, quindi si vede perché durante la gara facciamo delle azioni che dà sensazione sempre di pericolo. Continuiamo ad allenarci, io e lui da poco che giochiamo insieme, vediamo che succede. Sono d'accordo con te, io dico che siete una coppia devastante perché avete fisicità, tecnica, irruenza, insomma veramente siete due belli animali. Oggi sia Raikovic che Berlusci che sono considerati tra i migliori difensori della categoria hanno sofferto le pene d'inferno. Vi faccio i complimenti. Ultimissima, perché non l'abbiamo chiesto a Bucchi, rientrate domani mattina e poi nel pomeriggio vi allenate nel sanno, giusto? Perché insomma martedì si gioca. Sì, rientriamo mattina presto, mangiamo e ci alleniamo e dobbiamo pensare subito alle prossime gare che sono importanti.